Gli tiro il furbione, forse. Questo cazzo americano, va! Che giù viene, va! Diamo la sigaretta. Che puoi fare, Marco? Voglio ammazzare questo figlio buttano, va! E' Vincent. Tu cazzo, Vincent. Il due non mi deve dire che devo fare. Andiamo, dammi la pistola, forse. Oh, dammi la pistola, che parlò? Oh, dammi la pistola. Voi. Io! Voi. 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 Aaaaaah! Aaaaaah!